Non credo che il voto del 25 settembre sia stato molto diverso da passati appuntamenti elettorali. Fra i candidati c'erano persone per bene, qualcuna in chiaroscuro e figure senza alcuna decenza politica, pronte a tutto pur di raggiungere la gognata poltrona ben retribuita e con tutti gli onori del caso. A mio avviso un bel confronto è stato quello all'interno del PD. Non soltanto perché Dario Safina e Domenico Venuti sono arrivate a una manciata di voti l'uno dall'altro, superando entrambi le 5.000 preferenze, ma anche per un rinnovo anagrafico che non è affatto scontato al giorno d'oggi. Il candidato trapanese ha vinto forte di una potenza di fuoco con in prima linea le amministrazioni di Trapani e Derice sostenendolo a spada tratta, così come gran parte dell'apparato ex DS in provincia. Nulla toglie alla vittoria di Safina. È normale che una corsa per l'Assemblea regionale siciliana debba essere strutturata sul territorio se si vuole correre per vincere, ma solo una persona profondamente disolesta intellettualmente, come qualche sedicente aspirante politica del passato ha commentato, può sostenere che Venuti fosse favorito in quanto segretario dei democratici trapanesi. Senza scomodare la prima repubblica, dove forse questo ruolo contava qualcosa, basterebbe vedere il vuoto di Forza Italia, così per andare un po' indietro negli ultimi anni, per ripercorrere le sconfitte di tanti segretari provinciali. Per ritornare ai due, ancora più apprezzabile la loro coerenza politica, questa sì, davvero ormai mercerara. Lo dico chiaro, apprezzo molto più un Peppe Bica, lontano mille miglia dalle mie idee sociopolitiche, che ha militato sempre nella stessa area partitica, spendendosi a volte anche per candidature difficili, come in questa tornata, che figure pronte a tutto pur di raggiungere l'agoniato scranno a sala d'Ercole. Caprioli elettorali e surreali che null'altro sono che la mera ricerca di una lista su misura. Capisco che la sofferenza dei partiti tradizionali a volte possa portare a delle scelte laterali, ma cambiare simbolo di volta in volta camuffando l'ennesimo progetto politico più o meno fumoso per la panacea dei siciliani è quanto di più squallido possa esserci. L'esatta ragione per la quale il cittadino è ormai disilluso della politica, rifugiandosi nell'assenzionismo o, peggio ancora, nel populismo. Superfluo dire che gli stessi personaggi stigmatizzano un giorno sì e l'altro pure la mala politica, auspicando che ritorni alla dignità di una volta. Non si capisce come possa ritrovarsi con un andazzo del genere. Nell'analisi del voto di questi giorni abbiamo detto di Eleonora Locurto, l'ormai ex deputato marsalese, da vent'anni a questa parte ha cambiato ogni sorta di partito e movimento, tolta la sinistra. Stefano Pellegrino, apprezzato professionista dalla lunga tradizione socialista, ha provato delfini, popolari vari, fino a diventare commissario dello scudo crociato. Oggi ha trovato la sua casa in Forza Italia, tanto per fare due esempi fra i più eclatanti di questa tornata. Persone per bene, per carità, ma a mio modesto avviso l'esempio lampante dell'opportunismo sfrenato dei politicanti di oggi. Nessuna ideologia, nessuna militanza, solo la spasmodica ricerca di trovare la scorciatoia più comoda per essere eletti, al netto delle migliori intenzioni verso i cittadini, che qualora ci siano, passano certamente in secondo piano con questi cattivi maestri, ovviamente politicamente parlando.